Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi la partita più pazza del Tata Steel 2024, non 2024, purtroppo ragazzi la testa con l'età un po' se ne va. Partita giocata all'undicesimo turno tra due dei giovani che rivedremo poi al mitico torneo dei candidati, l'indiano Gukesh e l'iraniano naturalizzato francese Firuja. E allora passiamo subito all'azione, like al video e partiamo, perché Gukesh di bianco apre con D4, Firuja risponde con cavallo in F6, cavallo in F3 G6, C4 alfiere in G7, vedete che sembra un'indiana di re, ma dopo cavallo in C3 la continuazione principale dell'indiana di re è a rocco corto, arriva D5, rientriamo nella Grunfeld. E allora qui ci ha pensato un po' Gukesh, non che non si ricordava le mosse, ma su quale variante adottare, sceglie la variante di cambio, C per D5, il cavallo ricattura, e allora come sappiamo E4 arriva con tempo, il cavallo può anche tornare indietro in B6, seconda mossa più giocata. Invece la continuazione principale è cavallo per cavallo in C3, il pedone ricattura, la classica struttura pedonale del bianco contro la Grunfeld, e allora proprio questo centro bisogna attaccarlo. E qual è il punto, diciamo, più attaccabile? È questa casa D4. Arriva infatti C5, catturare il pedone, vuol dire farsi cambiare le donne e il nero ha come minimo equalizzato, e allora Gukesh gioca al fiere in E3. E ora ci sono tanti modi di continuare, perché è un'apertura, seppur difficile a questi livelli da sostenere per il nero da Grunfeld, è un'apertura, è una difesa molto ricca, una difesa stupenda. Tant'è che era una delle favorite di Garry Kasparov. E allora come si può continuare? Donna in A5, che inchioda il pedone sul re, ma anche il cavallo in C6, anche arrocco corto, anche al fiere in G4, quarta mossa più giocata, ma al computer piace, inchioda il cavallo sulla donna. E allora arriva torre in C1, la torre si toglie dalla brutta diagonale principale, dominata dall'alfiere camposcuro del nero, arrocco corto anche per il nero, al fiere in E2. E allora arriva donna in A5, che tra le varie, ora il bianco arroccherà naturalmente, prima o poi, no? Quindi è vero che inchioda il pedone, ma sta anche attaccando il pedone in A2. Donna in E2, la mossa che giocherà Gukesh, a difesa del pedone, la mossa più giocata. Interessantissima anche arrocco corto, che risulta ancora più precisa, ma va studiata bene, perché il pedone si perde e poi bisogna giocare con molta attenzione. E allora Gukesh gioca donna in D2. Qui sicuramente si può mettere in gioco il dato di donna. E6, e allora H3 attacca l'alfiere, vedete, l'alfiere non può più tornare indietro, e quindi bisogna cambiarlo sul cavallo. Alfiere per cavallo in F3, è l'alfiere che ricattura, cavallo in C6 connette le torri. E allora arriva D5, mossa migliore, perché se no qui gli sciupava tutta la struttura pedonale, se il cavallo si sposta. Allora bisogna cambiare, E per D5, E per D5. Cavallo sotto attacco si porta in E5, lo fa con tempo, e allora l'alfiere torna indietro in E2. Fantastica questa C4, vedete che cosa fa? Tiene disconnessi i pedoni, perché questo ritende scherzando, è un pedone passato. E allora F4 è vero che attacca l'unico difensore del pedone, ma dopo cavallo in D7 il pedone è intoccabile, tant'è che Gukesh non ci penserà nemmeno e giocherà arrocco corto. Come mai? Che succede? Solito discorso, guardate tutti i pezzi del nero puntano a C3, guardate con il re ancora sulla diagonale scura, dopo torre in A che va in C8, il bianco è perduto. E allora dopo cavallo in D7, pedone intoccabile, arriva arrocco corto. Una sola partita rimasta in database, vinta dal nero, che aveva giocato l'ottima torre in A che va in C8. Pensate, Firuja la migliora con una novità, cavallo in B6. Non solo il pedone protetto, ma la torre è libera anche di portarsi in D8. Due volte sotto attacco il pedone passato, la partita diventa originale. Oltretutto facile capire che il nero potrà facilmente aumentare gli attacchi sul pedone passato. Tutti i suoi sforzi si concentreranno di... E allora, pensate che Firuja ha usato anche poco tempo per arrivare in questa posizione. Quindi, grandissima preparazione. E... Gukesh ci ha pensato un po' di più, ma comunque ha circa un'ora di tempo. Quindi, il tempo ancora c'è. Torre in F che va in D1, seconda protezione sul pedone. Arriva la torre e allora ci vuole alfiere in F3. Torre in D7 per il raddoppio dei pezzi pesanti sulla colonna di... Gukesh trova una grandissima idea. F5, a cosa serve? Cosa serve? Perché praticamente libera l'alfiere e non potrà... Non potrà raddoppiare le torri sulla colonna di il nero. Torre in A che va in D8, arriva, ma arriva anche alfiere in G5. C'è F6, c'è F6. Allora, alfiere in H4. Il pedone cade. Cavallo che cattura in D5. Guardate, bruttina. La donna su questa colonna. Dove va messa? Va spostata. Donna in E1. Naturalmente si poteva giocare anche donna in E2. Per andare per l'invasione da E6 con scacco. E allora re in F8. Donna in E6 ci va allo stesso. Siamo ad un momento molto importante. Molto importante. La continuazione migliore per il nero dovrebbe essere torre in D6 non giocata da Firuja. Come mai? Come mai? Perché qui dopo torre per cavallo, quindi solita minaccia, torre per donna, torre per donna. E allora torre per torre. Guardate brutto. Bello per il bianco. Questa bellissima intermedia che minaccia scacco matto. E allora il nero deve ricatturare in G6. E qui c'è alfiere per pedone. E qui è brutta la faccenda. Di nuovo si minaccia il matto in due stavolta. Ci vuole donna in B6 con scacco. Per togliere l'attacco al bianco. Cambio delle donne. Alfiere per torre. Torre per alfiere. Il bianco vince un pedone. Ma praticamente questa partita finirà in patta. Questo finale è sicuramente patto a questo livello. Invece cosa fa Firuja? E lui attacca la donna. Cavallo in F4. Mi sono scordato da barra. Mi sono scordato da barra. Ve la faccio vedere. Ve la faccio vedere. Ho questa posizione. In questa posizione Gukesh. Ha in mano il colpo del KO. Il colpo del KO. Sbaglierà i calcoli. E giocherà un sacrificio di donna. Fondamentalmente sbagliato. Cosa bisognava fare in questa posizione? Bisognava giocare torre per torre. E quando il cavallo vince davvero la donna. Il pedone si riprende il cavallo. E guardate la minaccia terribile. E giocare E7 con scacco. E vince la partita. E allora ci vuole torre in E8. Ma arriva la seconda torre. Torre in E7. Purtroppo. Purtroppo per il bianco non si può giocare torre in D8 con scacco. Ma che succede? Succede che il bianco con la coppia degli alfieri. Dopo aver catturato il pedone. Giocherà alfiere in G3. Alfiere in D6. Attacco decisivo. E invece Gukesh cambia. La donna sulla torre. La torre ricattura. La torre ricattura. È vero che si è data via la donna per due torri. Ma è vero anche che il nero può rimanere in partita. Giocando cavallo in D3. Il bianco rimane comunque leggermente preferibile. Invece Firuja gioca a donna che cattura il pedone in F5. La torre sotto attacco cattura il pedone in B7. Cavallo per pedone. E come mai? Perché il pedone in G2 è sovraccarico. Allora re in H1 mossa migliore. Cavallo di nuovo in F4. Alfieri in G3. Ora sarebbe stata più precisa torre in E1. Ma queste sono sottigliezze. Il momento critico arriva tra poco. Donna in G5. E attacca l'alfiere. Gukes il bianco ha di nuovo la possibilità di dare il colpo di grazia. Allora noi siamo arrivati al nostro quizone. Cosa giochereste al posto del bianco? Mettete pure in pausa. E da voi la parola. Ritorniamo subito a noi. Per evitare gli scacchi della donna dalla colonna H. Gukes giocherà alfiere in H2. Ma questa mossa non vince più la partita. Cosa bisognava giocare? Bisognava andare a cambiare l'alfiere sul cavallo. Come mai? Perché quando la donna ricattura e attacca la torre. La torre si sposta con tempo. C'è la minaccia. La torre in D8. Scacco matto. Scacco matto. L'unico modo. L'unico modo di evitare il matto. E di riuscire in qualche modo a riposizionare la donna. Controllando. Difendendo questa casa in D8. E allora l'unico modo è giocare donna in H4 con scacco. Re in G1. F5. Apre la difesa della donna. Ma la mossa decisiva arriva adesso. Ed è re in F1. Gli scacchi di donna da H1 non servono a niente. Perché il re si porta in E2 e non ci sono più scacchi. E con il re in F1 che controlla lo scacco di donna. Che porterebbe alla ripetizione. Donna in E1 con scacco. La torre è libera di passare all'attacco. Questa è la mossa decisiva. Perché dopo alfiere in F6 c'è il raddoppio delle torri. Sulla settima traversa. E di nuovo c'è la minaccia di matto. Perché qui il problema è l'altra torre. E allora re in E8. Torre in D che va in C7. Queste sono finezze che dobbiamo imparare. Perché il re è sempre più spostato. Arriva torre in F7. Questa è protetta. Voglia di attaccarla. Qui c'è il matto. E qui è finita veramente. Non si può giocare re in E8. A dar fastidio all'altra torre. Perché il re si porta su casa chiara. Arriva alfiere in C6 con scacco. Re in D8. Torre in F8. Scacco matto. E invece dopo alfiere in H2. Che succede? Succede che giustamente. Arriva F5. Torre in E1. Donna in H4 con tempo. Raddoppio delle torri. Alfiere per pedone. Torre che cattura il pedone in H7. Sembra impedire per sempre alla donna di dar fastidio sulla colonna H. Ma arriva donna in E1 con scacco. Alfiere in G1. E ora che succede? Alfiere in E5 impedisce il matto. Perché da questa parte non si poteva. E allora torre che cattura il pedone in A7. Sembra che il matto sia in A8. Ma re in G8 si rifà sull'altra torre. Torre in E7. In qualsiasi casa questa torre si fosse spostata. Non controlla più la colonna H. Donna in H4 con scacco. Alfiere in H2. Donna in E1 con scacco. Avanti e indietro. Sarà scacco per pedone. E i due si accordano per la patta. Veramente una partita che mi è piaciuta moltissimo. Spero che sia piaciuta anche a voi. Guardiamo la classifica. Abdu Satorov da suo al comando. A due turni dal termine. Dietro di lui proprio Gukesh a mezzo punto. E poi un branco di quattro inseguitori. Anish Giri, Pragra Nanda. L'altro indiano Vidit. E il cinese Wei Yi. Quindi ancora tutto da giocare. Io come al solito vi ringrazio tantissimo per l'ascolto. Mi raccomando iscrivetevi al canale. Aiutatemi a farlo crescere. E noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Buona domenica a tutti. A presto.